Un ambulatorio per la diagnosi dei casi sospetti di coronavirus per tutti coloro che rientrano in Toscana dalle aree più a rischio contagio con una prima sintomatologia come febbre, tosse e mal di gola. L'ambulatorio sarà in funzione tra pochi giorni allo smannoro in un centro medico già attivo e messo a disposizione gratuitamente dal Consolato Generale della Repubblica Popolare Cinese. Il protocollo di collaborazione è stato siglato tra il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e il Console della Repubblica Popolare Cinese Wang Wengang. Il Presidente Rossi ha sottolineato che bisogna sì alzare l'attenzione e la prevenzione ma prima di tutto bisogna combattere paura, ignoranza e pregiudizio. L'influenza del coronavirus non è allo stato attuale sicuramente più impattante in termini di mortalità di quanto non sia, anzi abbondantemente di più è la normale influenza stagionale. È giusto prendere tutte le precauzioni, il governo cinese lo sta facendo, noi ci stiamo preoccupando della salute di tutti i cittadini della Toscana e questo protocollo di collaborazione ci aiuta a parlare al mondo cinese e ci aiuta anche a fare un'azione di intervento e di prevenzione molto seria, molto forte, molto rigida. Il Consolato Cinese informerà i propri connazionali sulle modalità di accesso all'ambulatorio mentre il personale sanitario sarà messo a disposizione dall'ASL Toscana Centro. Questo ambulatorio è il risultato della collaborazione tra il Consolato e la Regione. Noi facciamo un appello ai cittadini cinesi che sono rientrati dalla Cina e che hanno sintomi come febbre. Li consigliamo di chiamare l'ambulatorio per chiedere il trasporto per poi fare il test. In Italia al momento sono stati registrati solo tre casi di coronavirus, sono tuttavia ancora in corso i rientri dei cinesi andati a festeggiare il Capodanno in Cina. Il Consolato Cinese ha parlato di 2.500 che devono rientrare in Toscana.